In queste puntate, si torna a Biodi la Muse di Chiazze Cavazzini, il CSS a riguarde Harold Pinter. Vaccinazione, un rimedio contro l'influenza. I appuntamenti del settemane. E torniamo a fare i vedi, le sfacciate di Chiazze Colombattica Cavazzini, da sposti di lavoro di una tormentata, ma importante, ristrutturazione. Il palazzo, che si chiate ai enfri i vie Savorniane e i vie Lionello, e che all'estate lasciate al comune di Dante Cavazzini, al comenterà dal 2010 a da spazio ai nuove gallerie di arte moderne di Udin. In tessuaggio di questa ristrutturazione, un po' di onore sarà riservata ai collezioni Astaldi, che è la roba più preseade ai enfri delle collezioni di struttura museale. Io, per Aris, è attaccato ad avviare le armandure di vie Savorniane, tornando a fare via dei cittadini il sflandore dell'edificio del Cincento, che si chiamava il Palazzo Savorniano dei Bandieri, e, dove, di Chiazze Cavazzini, che dentro è la decorazione fresca di uno dei più grandi artisti furlanti del Novecento. Venga stai, afro, Basaldella. Dal giro di post-10, tutto il complesso sarà visibile, in te configurazione che gli ha dato l'architetto Gaia Aulenti. Nassù della palaciule, quindi furlane, ma che già ormai di ignorano se lavora a Milano. I lavori si sono da ora finiti, col mettere gli implants e pavimenti, ma già dentro dell'Angals comincerà l'arredamento dei locai, per permettere di viaggiare in un nuovo museo dal 2010. Allora è un autore dei più visionari e straordinari del Teatro Mondiale, ma dopo i film di sua vita ha avuto il riconoscimento del Premio Nobel per letterature. Oste infevelante dal scrittore inglese Harold Pinter, che il CSS, Teatro Stabile di Innovazione al Friul, Vinesi e Iulia, ha ricordato anche in questa stagione con un progetto di questo acclamato «Living Things, Rubis che Vivi». E al continuo vive anche Pinter, che ha morto la viglia di Nadal dall'anno passato, ma che lo presenta in tanti rassegni di teatri di avanguardia in Europa. Di nessuna banda, in tutto il caso, è stato fatto un lavoro così pieno e elaborato come quello del CSS, che è stato individuato in tre sezioni, più approfondimenti, video, documenti e interviste. Da i cutuardi di novembre ai voti di dicembre, saranno dodici le produzione che vignaranno metodi in scena, dutti di altissimo livello. Ma saranno anche rivisitazioni, per esempio, di poesie di questo autor, forse non si conoscevano anche il resto della sua opera. In particolare, The Basement, lavoro, un lavoro innovativo, calmesede, cine e teatri, al sarà curato per egli e diritto a Maffei. Alle partite la settimana stade, il plan di vaccinazione gratuito, che l'azienda sanitaria numero 4 del Friul di Miece porta in denanza per chi ha più di 65 anni e per chi sono le categorie sarisi. Qui sono? Chi ha malattie croniche dai polmoni o dal cur, i diabetics e chi che poi li ha inquinti a complicazioni. La vaccinazione è ben confiata solo in uia anche agli operatori sanitari e al personale di assistenza per evitare sensi di vore, ma se pensi e di vini malati di infezione di contatto. L'iniziativa è prevata anche alla distribuzione di volantini informativi e manifesti, anche per Furlan, che in grado del supporto dei farmaci e delle associazioni di categorie e ci raranno di far arrivare il messaggio il più idone possibile a EIT. Ai tradizionali campagni di informazione dagli anni passati si è ciro di donna classi di età particolari. Quest'anno, una campagna di posta riguarderà la nuova influenza A, H1 e N1, di là che non è provvedibile la vaccinazione massive dagli anziani. Per informazioni al rivoart, tutto il caso si può chiamare il Dipartimento di Prevenzione delle aziende sanitarie numero 4 del Friuli di Mieci. Telefon 0432 5 5 5 3 2 6 6 5 5 3 4 5 5 5 5 5 3 4 5 2 Gli appuntamenti di settemane Romeo e Juliette dal Ballet du Grand Teatre de Genève su musiche di Sergei Prokofiev con coreografie di Joël Bouvier Marta 6 27 ottobre ai snuf ma con un quart al Teatre New Poi inquinti con l'autore Antonio Sanginetto alfevelerà dal suo libri Il Futuro Nascosto L'inquinti Mierco 6 28 ottobre ai 6 di sera in Salle Ajace alle presentate di Bruno Pizzul Con Ararat dei 6 anni di Slitta e sui solmi di Balto in Alaska Appuntamenti con Ararat Kachikian Mierco 6 28 ottobre ai 5 da Spomisdì all'idea sezione Fantas delle Biblioteche Iopi Presentazione del bilancio di Genere dal Comune di Udink Viener 6 30 ottobre in Salle Ajace a partire di 6 di sera Il ruolo dei minoranci linguistiche in te Euro Regione della Vigni con vigne di studi a Palaccio Antonini Sabide ai 31 di ottobre a partire Slufa Buinore Parcure dall'ufficio di valorizzazione dal Furland al Comune di Udink Finale di Udink i game miei 2 i i i i i Grazie per la visione!